C'è chi parla e c'è chi agisce. Chi parla dice. Chi agisce fa quello che dice. Chi parla fa grandi promesse. Chi agisce raggiunge grandi obiettivi. Chi parla pensa al futuro. Chi agisce lo costruisce davvero. Chi parla può solo immaginare la sensazione. Chi agisce l'ha già provata. Chi parla.